Io credo che un dato come quello così importante sia il segno di un apprezzamento generale. Indubbiamente la tragedia del sisma che ci ha sovraesposti ha potuto misurare l'elettorato, la cittadinanza quanto più o meno sia stati rispondenti alle aspettative. Io quando ho visto quel risultato mi sono emozionata, commossa, sono ovviamente rimasta soddisfatta. Non me l'aspettavo, nemmeno mi ricordavo che sarebbero usciti i dati di questo sondaggio. Siamo talmente presi da altre cose che proprio non ci pensavo, però sono ovviamente molto soddisfatta. Anche il presidente Chiodi aumenta il gradimento? Sono soddisfatta anche per lui e anche per il sindaco Cialente che gli amministratori cimentati in questa situazione così tragica abbiano comunque dimostrato di saper fare e di poter andare avanti. Non nascondo però che il risultato che mi ha visto essere la prima presidente in Italia mi ha veramente dato quella spinta in più di cui avevo bisogno perché non mancano i momenti di difficoltà in questa vicenda. Seguire la tragedia del sisma e contemporaneamente non dimenticare mai tutto il resto della provincia ha comportato su di me uno sforzo di lavoro, di tempi, di dedizione, anche dal punto di vista psicologico, molto forte. Questo segnale che mi arriva dal sondaggio mi incoraggia tanto e anche per le sfide future.